Grazie, signor Presidente. Cari colleghi, io, nell'esprimere il voto di astensione di Fratelli d'Italia su questo provvedimento, voglio significare innanzitutto che il mancato voto contrario è dovuto al fatto che, come sempre, il nostro partito mette davanti a tutto l'interesse nazionale, mette davanti a tutto l'interesse per i nostri concittadini, per quegli residenti in Puglia che hanno gran parte dei loro risparmi e dei loro investimenti in questo ennesimo istituto che, ahimè, stava avviandosi verso il default. Ecco spiegata la ragione per la quale noi daremo un voto di astensione. Certamente però le criticità sono tante perché quando si parla di misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, si parla in realtà, cari colleghi, dell'ennesima misura tampone nei confronti delle tante crisi bancarie che si sono succedute in questi anni, dal 2015, nel 2017, nel 2019, fino appunto a questo decreto datato 2020. Quindi a fronte di tutte queste crisi non siamo stati capaci, non è stata capace la politica e ovviamente non sono stati capaci i governi che si sono succeduti ad attuare una serie di riforme che dessero finalmente una nuova struttura da una parte al mondo bancario e dall'altra agli istituti della vigilanza perché ambedue sono coinvolti nelle crisi che abbiamo e che stiamo affrontando, ripeto, solamente con misure tampone. Allora io voglio ricordare che noi qui parliamo di soldi pubblici, parliamo di 900 milioni che vengono destinati attraverso un sistema a cascata, ad Invitaglia, al Medio Credito Centrale e quindi poi in gran parte a Banca Popolare di Bari. Un sistema a cascata di soldi pubblici, quasi un miliardo di euro, che voglio ricordare tanto per citare i numeri, costituiscono ben sei volte la misura della mancata approvazione e riproposizione in legge di bilancio della cedolare secca sulle allocazioni commerciali, cioè per trasformare in dati oggettivi tutto ciò, ricordiamoci che i soldi che noi oggi andiamo a mettere in questo provvedimento sono ben sei volte in più di quello che sarebbe servito per garantire alle locazioni commerciali il sistema della cedolare secca. Quindi soldi preziosi che noi andiamo una volta in più a impegnare per risanare degli sprechi, degli atti probabilmente criminosi che hanno caratterizzato la gestione di certi istituti bancari. Questo dobbiamo ricordarcelo tutti, perché ribadisco, in questi anni sono stati tanti gli interventi tampone, ma purtroppo sono state tardive le vigilanze e nessuno ha mai risposto in tribunale davvero e non è mai stato punito per quello che è successo. Allora, facendo riferimento agli interventi che ho sentito anche in discussione generale, io ho apprezzato e ho condiviso in gran parte quello che il Presidente Pesco ha detto. Mi permettono però una battuta sulle criticità rivolte al sistema e anche al sistema Europa di chiedere se il Movimento 5 Stelle si sta forse preparando a uscire dalla maggioranza europea e da quella attuale di questo Parlamento, perché le stesse criticità che voi avete rivolto, che lei, il Presidente Pesco, ha rivolto al sistema Europa le condivido pure io dall'opposizione. Allora, forse intravedo una vostra uscita e mi piacerebbe capirlo meglio sia sul piano europeo che su quello nazionale. Quindi, una crisi bancaria che, come tante altre situazioni, sia anche collegata a questi famosi NPL, a questi crediti in sofferenza che da una parte hanno appunto affossato le banche, hanno tolto patrimonio alle banche e dall'altra hanno garantito grandi guadagni agli speculatori, perché questo è successo. E peraltro sappiamo, come stiamo attendendo da mesi, che dei provvedimenti legislativi su questi temi vengano al più presto messi e portati a compimento. Ci auguriamo che la proposta a prima firma di Fratelli d'Italia e del Senatore Urso sugli NPL possa quindi cominciare a dare un contributo alla riforma di questo settore. Naturalmente, necessitiamo, come dico, di una maggiore riforma, anche di una riforma vera, anche nel campo della vigilanza. Perché quando abbiamo Banca Italia, che ha iniziato a segnalare criticità nel 2010 per poi arrivare invece nel 2014, quando ovviamente la situazione era peggiorata e non migliorata, è arrivata poi a dire acquisite la banca Tercas a una banca che già aveva problemi, vuol dire che qui c'è un cortocircuito, vuol dire che nella vigilanza di Banca Popolare di Bari c'è stato qualcosa che non ha funzionato e anche qui nessuno ha risposto. Ma poi siamo arrivati al 2017 quando Banca Italia sottolinea che di fatto bisogna cambiare presidenza e la risposta qual è stata? Una risposta che è stata avvallata, peraltro, che dal presidente al presidente è succeduto il nipote del presidente. Allora ecco, veramente, gestioni familistiche di interessi, gestione che hanno giocato con gli interessi dei risparmiatori, di quei cittadini ai quali noi vogliamo dare invece protezione e garanzia. Crediamo quindi, anche per dare delle risposte, che sia giunto il momento davvero di dire alt, di porre un fine a queste misure tampone, di porre fine ad un sistema di controllo che arriva solamente alla fine e non è mai preventivo per evitare queste situazioni e quindi serve la riforma delle riforme, come io le voglio definire. E qui mi collego pure all'intervento dello stimato ed apprezzato collega Mauro Marino quando, mi sembrava, nella parte della discussione generale, diceva sostanzialmente che voleva ricollegare la dimensione della banca alla riforma delle popolari. Ecco, io dico, il problema è un altro. Non è il fatto che una piccola banca, in questo caso, ha avuto dei problemi, è dovuto al fatto che noi e che questo giustifica che noi dobbiamo portarci solamente verso un sistema di grandi banche. Ecco, io questo lo contesto apertamente perché ritengo che noi dobbiamo invece ristrutturare la vigilanza, quindi non permettere alle piccole e alle grandi banche di fare interessi che non sono coerenti con i fini istituzionali e dall'altra invece riformare un sistema riportando in Italia anche, e non solo, ma anche il sistema delle banche di territorio e delle piccole banche. Perché quanto ha bisogno il nostro sistema economico, le nostre piccole imprese, le nostre vallate, le nostre periferie, quanto hanno bisogno di quelle banche ad intuitus persone, quelle banche che guardavano all'imprenditore, all'artigiano, al commerciante, non solamente per i dati oggettivi di bilancio, ma anche e soprattutto per quello che era lui, la sua famiglia e la sua esperienza passata. Ecco, quel tipo di banche che ricordo, colleghi, non sono un pensiero retrogrado di Fratelli d'Italia, ma sono l'ossatura tuttora delle banche tedesche e di gran parte del sistema bancario americano, quelle banche noi le abbiamo nella scorsa legislatura cancellate dal panorama italiano. Quindi dobbiamo davvero fare la riforma delle riforme e quindi da una parte riformare la vigilanza, riformare Banca Italia, far sì che il controllo sia effettivo e preventivo, e cerco di concludere presto, Presidente, e dall'altra ripristinare un sistema che accanto alle cosiddette banche significant preveda anche le banche di territorio, quelle banche che Ben motiva nel suo testo Rainer Masera, sono vitali per l'economia della nostra Paese. Quindi, concludendo, Presidente, io chiedo due piccolissime considerazioni di pochi secondi. Diversifichiamo il sistema, diversifichiamo banche commerciali e banche di investimento, andiamo a riformare un sistema che è bloccato da anni e quindi in questo contesto voglio ribadire il nostro voto, che è un voto propositivo di astensione, un voto che vuole avere soprattutto uno stimolo, che vuole significare soprattutto uno stimolo per la riforma delle banche e per la riforma delle autorità di vigilanza. Grazie. Grazie, Senatore De Bertone.